Siamo nel caos totale, con un massimo di 10 auto sul circuito, re della derapata richiede il massimo punteggio entro il tempo limite. Ricorda, se urti le barriere verrai penalizzato, ma non in caso di collisione con altre auto. Bobby sa riconoscere l'abilità e sa che può arrivare lontano con la sua sicurezza in se stesso. Tienilo d'occhio. 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 Grazie a tutti.